Ristretto italiano. I media internazionali scrivono di noi. La guerra in Ucraina, il rallentamento dell'economia. Stufi di chi ha governato fino ad ora, scrive BBC, gli elettori italiani si sono rivolti a chi ancora non era stato messo alla prova. Per quanto riguarda le sfide più immediate, BBC ricorda alla Premier Impactor che ogni decisione del nuovo governo sarà vagliata, oltre che dal Parlamento, che lei non avrà troppe difficoltà a controllare, dal Capo dello Stato e dalla Presidente della Consulta, entrambi noti per essere due impeccabili centristi. Si comincerà per esempio con i ministri, ognuno dei quali dovrà avere l'avallo di Mattarella. Non sarebbe la prima volta che un candidato viene depennato. Chiedere informazioni a Gratteri, aggiungo io, quella volta del governo Renzi. Allo stesso modo la consulta potrà revocare ciò che riterrà contrario alla Costituzione. Ma continua, tranquillizza l'articolo, grandi cambiamenti sociali non sono in vista, dal diritto di abortire al diritto dei gay. Nessuna urgenza di eliminarli. Quello che ci si aspetta invece è un'offensiva contro l'immigrazione clandestina. Meloni ricorderà sicuramente però che quando appena quattro anni fa ci provò Salvini, si scontrò subito col diritto internazionale e con le regole europee. E va tenuto presente che il diritto europeo è al di sopra del diritto nazionale. Da un'altra parte, leggo ancora, un nuovo asse con Meloni e Orban potrà rafforzare un polo di discussione nascente contrario a Bruxelles con gli stessi vertici europei. Ma, d'altra parte, realisticamente, la pioggia di miliardi in arrivo e non ancora pagati lascerà poco spazio alle divagazioni. In materia fiscale, qui entrano in gioco le promesse elettorali, soprattutto dei suoi alleati, il primo test di Meloni sarà la finanziaria da approvare in tempi molto stretti con i banchieri che temono che il debito italiano possa salire ancora di più. E poi, ultimo ma non da ultimo, la necessità di trovare la quadra con i due alleati sull'amico Putin. Un'Italia impoverita e disillusa si arrende all'esperimento di un governo di estrema destra. Questo, dalla Spagna, è il titolo del quotidiano El Diario, il titolo che ci riguarda. Lo scollamento delle periferie, continua il giornale madrireno, unito all'invecchiamento della popolazione e alla mancanza di un messaggio da sinistra, sono andati oltre la paura del fascismo e sono alcune delle chiavi che spiegano il successo di Giorgia Meloni. Bastava, per esempio, andare a Torbellamonaca, estrema periferia est della capitale, per capire che cosa stesse per accadere. Per raggiungere Torbellamonaca, dal centro, occorre un'ora e mezza di autobus, come spostarsi in un'altra città. E Mirko, un quarantunenne che parla con l'inviato del diario, spiega che per circa sette mesi l'anno, lui fa la guardia giurata in una zona del centro, guadagna circa sette mila cinquecento euro netti l'anno, che aggiunge ai quattrocentocinquanta mensili della pensione di mamma. Poi c'è Alessia, che invece spiega, come il suo padre, sessantacinquenne, prossimo alla pensione, dopo aver votato in passato per la sinistra vera, ha detto lei, quest'anno non avrebbe votato. Lavorava in un supermercato, lei e Alessia, a mille duecento euro al mese, ma dopo la nascita della figlia il contratto non è più stato rinnovato, ora ha il reddito di cittadinanza. A Torbellamonaca, conclude il servizio, a posteriori possiamo dire che ha vinto il partito dell'astensionismo, secondo Fratelli d'Italia. Cinque anni fa furono primi i Cinque Stelle. Dall'Argentina, invece, si chiedono che cosa accadrà alla cittadinanza italiana dopo il trionfo dell'estrema destra di Giorgia Meloni. In particolare se lo chiede per Phil, testata che dopo aver premesso che Meloni è da sempre contro l'immigrazione, soprattutto islamica, è arrivata addirittura ad accusare l'Europa di complicità nella cosiddetta sostituzione etica, chiarisce però per Phil che il diritto alla cittadinanza per lei e il suo partito deriva dallo ius sanguinis, ovvero dal legame di sangue con il nostro paese. Per lei, in parole più semplici, il cittadino americano, nord o sud americano cambia poco, che possa dimostrare la discendenza da progenitori italiani ha diritto alla doppia cittadinanza. Punto. E visto che questa è già la normativa vigente, non cambia nulla e non cambierà fino a che ci sarà lei. Restano le oltranote difficoltà a essere ricevute ai consolati e l'intenzione di Meloni, spiega l'articolo, è quella di snellire le procedure e creare un sistema centralizzato che proprio attraverso i consolati metta in contatto ricerca e offerta di lavoro tra imprese italiane e lavoratori argentini. Mi sposto in Russia. Il Gremlino è disponibile a sviluppare relazioni costruttive con la nuova Italia, lo scrive dalla Germania Dolcevelle. L'annuncio è stato fatto dal portavoce di Mosca, Peskov, che ha dichiarato siamo pronti a ricevere qualsiasi forza politica in grado di superare le tendenze prevalenti, cariche di odio, nei nostri confronti. Berlino, e sempre Dolcevelle che parla, ha rifiutato invece ufficialmente di commentare la svolta italiana, dichiarando però convinto, e qui sono parole del vice portavoce del governo tedesco, convinto che la fedeltà di Roma all'Europa non cambierà. Chiudo, chiudo con Al Arabiya, emittente degli Emirati Arabi con sede a Dubai. Titolo Il nemico dei profughi in Italia prevede di bloccare il mare. E lei il nemico, magari hanno scritto la nemica ma mi è stato tradotto nel nemico. Dopo la schiacciante vittoria elettorale, Giorgia Meloni, scrive Al Arabiya, ha in programma di istituire quella che ha definito una missione militare europea per affrontare migranti dalla Libia e dalla Tunisia. Meloni, ricorda il servizio arabo, ha tenuto discorsi militari sui temi dell'immigrazione, esprimendo netta contrarietà con le politiche di Mario Draghi. Io qui concludo. Vi auguro una buona giornata, vi aspetto domani e spero di trovarvi sempre più numerosi. Grazie a tutti. Ristretto Italiano di Ruggero Po.